Sì, facciamo il video di questo unboxing, vai! Allora, facciamo così. Siamo da AM giochi, fumetti. Qua c'è il tappetino molto carino. Sempre così. Cosa speri di trovare in questo box? Ma quelle, le carte, quelle ristampate che scarti hanno in effetti quelle competitivissime. Vai! Poi, le promo, che non le apro neanche perché le conosco. Aspetta che vengo dalla tua parte, così. Vai! Aprivo. Questo è il Gusto Agra, ottimo. Vecchi comuni, la Gualità. Questa è interessante. Bella anche quella là. Ho ritrovato quella, bellissimo. E anche la melodia è molto carina. Cicret. Prima busta, andata. Ora, ha un'altra. Drone lock. Okie blu. Okie blu. Kaiva con filament. E' l'ultima. Oh, questa mi interessava. Un patato, un ring. Un drago bianco perché ristampa. La demise. Ah, che bello. Che bello. Ci contavo. Bene. Sei contento? Tantissimo. Ok, ottimo. Fai vedere anche dov'è Reborn. L'hai messo via? Nel portafoglio. Nel portafoglio. E' l'ultima. Facciamo vedere anche le prime lost promotion che vanno via. Eccola qui. E questo qua ce lo potete avere spendendo praticamente 30 euro in prodotto Yugi. Ciao, ciao. Ciao.